Sono 8.828 i nuovi casi di covid in campagna su 48.143 tamponi processati, due le vittime, 37 i pazienti in terapia intensiva, 611 quelli sistemati nei reparti di degenza ordinaria. In tutta la campagna aumentano i casi di covid del 45,5%, in Irpinia la maglia nera con un più 68,8%, 901 casi nelle ultime 24 ore e un altro decesso al Moscati dove è morto un 83enne di Avellino. Nel Sagno l'aumento dei casi è del 42,6%, nel Salernitano del 42,8%, a Napoli il picco tocca il 46%. Siamo in un momento di risalita della curva, specialmente nelle scuole e in molti anziani, questo è il caso di dirlo, che si sono vaccinati a ottobre-novembre scorso, che hanno fatto tre dosi a ottobre-novembre scorso. Per l'esperta potrebbe essere necessaria la quarta dose, ipotesi palesata anche dal governatore De Luca. È chiaro, se vogliamo pigliare a modello gli altri paesi che hanno cominciato prima di noi, i contagi stanno aumentando e quindi diventa molto probabile una quarta dose. E a preoccupare l'esperta, le vacanze, i ritrovi e le feste ormai vicine. Le vacanze pasquali saranno un momento in cui il paese sarà in movimento, ci saranno turisti in arrivo, in partenza e quindi è evidente che quello è un momento molto molto delicato.